Di sicuro dobbiamo ripartire dall'atteggiamento che abbiamo avuto negli ultimi minuti a Como, cioè di avere l'atteggiamento di stare unite, compatte, di andare tutte verso un unico obiettivo per comunque contrastare una squadra come il Milan di un livello molto alto. Sicuramente la stessa per la nazionale ci stanno sempre dei pro e dei contro. Noi siamo state molto brave con la nazionale Under 23 a vincere e comunque a portare in alto i colori italiani abbiamo fatto molto bene, noi siamo pronte cariche al 101% per affrontare questa partita. A livello personale questa convocazione mi ha dato tanto per cominciare di nuovo questo percorso con il Napoli-Ferminile nel migliore modo possibile, di sbloccarmi con questa maglia azzurra e soprattutto di impegnarmi ogni volta di sudare questa maglia e di ricevere un altro premio come la convocazione nazionale.